Buongiorno da Chioggia, siamo come sempre alla ricerca di eccellenze ed abbiamo scoperto vicinissimo a Piazzetta Vigo il ristorante Antica Osteria al Cavallo in Calle Picelli 468 Andiamo a conoscere i titolari, Cristina e Igor e capiamo che caratteristiche ha questo bellissimo ristorante Buonasera Cristina, come stai? Buonasera a lei, benissimo, grazie, benvenuto La faccio accomodare nel mio locale Più o meno 30 posti all'esterno e una ventina di posti qua all'interno Sì, sì, con una salita privata Meno un tipico chioggiotto con delle peculiarità che riguardano tutto il nostro territorio quindi il pesce è freschissimo pescato del giorno, quasi al chilometro centro contando quanto sulla qualità e l'impiantamento quindi un gourmet, un nuovo gourmet, chiamiamolo così che riguarda proprio la tradizione nostra chioggia Giustamente dicevi che il valore aggiunto è la chioggia e il pesce fresco La freschezza, sì, del nostro pesce Piatti ben curati Cucina innovativa, sicuramente giovane chi guarda la tradizione Oserei dire quasi dei quadri che parlano del nostro cibo della nostra cucina perché ci piace stupire il cliente con colori, con abbinamenti, con frutta esotica salicornia, con delle mousse che facciamo noi Inserimenti nel piatto parlano di noi in questo caso andiamo ad esaltare proprio la qualità e il sapore del nostro pesce quindi pranzini, soasi, rombi, lucerne quasi ogni giorno un menù, un piatto del giorno, chiamiamolo così Con cucina c'è il tuo compagno, Igor, quindi lo stiamo riprendendo lui è molto più discreto, non vuole assolutamente parlare Il 14, prima di sera d'agosto Fate una serata degustazione Precindere a città da un cliente che voglia venire Diamo ciò che ci piace tanto fare il crudo quindi un piaggio olfattivo che vuole prendere tutti i cinque sensi sempre saltando i sepoli per i clienti che vorranno prenotare vorranno anche richiedere la nostra catalana bellissimo abbinamento di verdura i crostacei elastici, ovviamente, o a ragosta Per qualsiasi cosa noi ci siamo per qualsiasi richiesta noi ci siamo ci rinnovo a vedere il nostro locale ci teniamo molto all'intimità quindi ad un pranzo, ad una cena veramente serena famiglia, con il marito, con il compagno, con le amiche molto molto intimo e molto elegante Grazie Cristina Grazie a lei di tutto Grazie a tutti Grazie a tutti